Tra le primarie del centro-sinistra del 22 settembre, il progetto politico dei sindaci e le possibili soluzioni del centro e del centro-destra, gli amministratori lucani guardano già la tornata elettorale del prossimo novembre, appuntamento delle urne che permetterà al popolo della Basilicata l'elezione del nuovo parlamentino regionale, dunque del neogovernatore che succederà a Vitore Filippo, nominato proprio di recente segretario regionale del PD. Nella coalizione di centro-sinistra saranno pertanto le primarie a decretare il candidato governatore, con una corsa a quattro tra l'assessore regionale quota PD Marcello Pittella, il presidente della provincia di Potenza, area PD Piero Lacorazza e infine Nicola Benedetto del centro Remo Cristiano e Michele Somma della comunità lucana e alcuni sindaci della Conegrese sembrano avere già le idee molto chiare. Pittella certamente per questo territorio è naturalmente il candidato dell'area e credo che poter sperare di avere il presidente della regione su questo territorio certamente deve riempirci di soddisfazione e d'orgoglio. C'è una storia politica alle spalle che mi ha visto impegnato nel Partito Socialista, nella Federazione Laborista, quindi poi tutte le evoluzioni successive, quindi tengo una storia alle spalle che chiaramente oggi mi porta ad essere solidale con Marcello Pittella, questo senza nulla togliere a Piero Lacorazza di cui sono pure buon amico. Io mi rivolgo all'area del centro-sinistra e quindi parlo di segnali che comunque ci devono essere e a me va bene che ci sia un segnale per quest'area perché in quest'area si è proposto proposto alle primarie l'assessore regionale Pittella, ma guardo con altrettanta attenzione anche alla soluzione di Lacorazza perché è un amministratore giovane e quindi potrebbe dare il giusto segnale. A lista dei sindaci io comprendo le motivazioni, ecco perché i sindaci spesso si sentono abbandonati di fronte ai grandissimi problemi che stanno vivendo. Diceva qualche mio collega in un'occasione noi abbiamo, i nostri comuni sono come una pendola che bolle e noi sindaci teniamo il coperchio schiacciato, non lo so fino a quando lo riusciremo a tenere schiacciato.